Incidenti e vittime delle strade in Emilia-Romagna. I dati divulgati dall'Istat relativi al 2019 mostrano numeri in aumento. Nel 2019 si sono verificati in regione 16.767 incidenti che hanno causato la morte di 352 persone e il ferimento di 22.392. Rispetto al 2018 aumentano gli incidenti più 1% e le vittime della strada più 11,4%, mentre sono stabili i feriti in netta contrapposizione alla tendenza nazionale che presenta diminuzioni. Per quanto riguarda le singole province della Romagna, i morti sulle strade rispetto al 2018 sono stati Aravenna più 8, Forlicesena più 18 e Rimini più 9. Nel 2019 il maggior numero di incidenti, 71,7% del totale, si è verificato sulle strade urbane, provocando 143 morti, 40,6% del totale, e 15.190 feriti, 67,8%. Rispetto all'anno precedente i sinistri aumentano dell'1,4% in ambito urbano, mentre rimangono sostanzialmente invariati, sulle autostrade più 0,5% e sulle strade extraurbane meno 0,1%. Nel periodo primaverile ed estivo la concentrazione degli incidenti è elevata, in coincidenza con la maggior mobilità legata al periodo di vacanza. Tra maggio e settembre si contano 7.587 incidenti, il 45,2% di quelli avvenuti durante l'anno. Infine, nelle notti di venerdì e sabato, si concentrano oltre la metà delle persone, 55,7%, decedute in incidenti notturni. L'indice di mortalità dei suoi incidenti notturni è pari al 4,1% di eccessi a ogni 100 incidenti e assume il suo valore massimo nella giornata di venerdì.